Le mascherine, che siano chirurgiche o FFP2, sono dispositivi di protezione individuale raccomandati e alle volte obbligatori nel contrasto alla diffusione del Covid-19, strumenti che da mesi sono entrati nella nostra routine e nella vita di tutti i giorni e che ora, nel pieno della cosiddetta seconda ondata, sono come una seconda pelle. Tuttavia, tra mascherine, guanti e gel disinfettante, si sta verificando anche a Piacenza un sempre maggiore utilizzo di mascherine riutilizzabili in plastica trasparente. Dispositivi che però, spiegano gli esperti, non sono conformi alla normativa vigente anti-Covid. In molti casi sono utilizzate nei locali pubblici per favorire il dialogo tra camerieri e clienti, ma la loro diffusione pare sia anche legata all'uso da parte dei protagonisti di alcuni noti programmi televisivi. Franco Pugliese, direttore dei servizi di prevenzione e protezione dell'ASL, mette però in guardia. Le sconsiglio vivamente, la protezione respiratoria non è documentata. Sulla stessa lunghezza d'onda, anche Roberto Laneri, presidente di Federpharma Piacenza. Nelle farmacie non si vendono, spiega, e nutro forti dubbi sulla loro efficacia. Le visiere trasparenti, infatti, possono sembrare più comode delle mascherine, ma non impediscono, secondo recenti studi, alle goccioline di saliva di diffondersi nell'ambiente circostante. Grazie. 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 Grazie.